A proposito di questo disaccoppiamento tra le elezioni regionali Lombardia-Lazio? È difficile fare un disaccoppiamento, nel senso che certo tutti i territori hanno loro specificità, ma credo che il PD debba decidere se vuole governare con i liberali, i formisti, il terzo polo, vuole governare con i 5 Stelle, è una scelta che deve compiere il PD.